Ieri la Guardia di Finanza ha dimostrato quanti sono gli evasori fiscali in Italia, ha dato delle cifre, dei numeri. Ecco, io vorrei vederli in faccia un po' questi evasori fiscali e tutte le volte che vengono rintracciati e vengono beccati, ecco, mi piacerebbe che ci fosse un sito in cui si mostra il volto dell'evasore che è stato beccato. Almeno questa soddisfazione di vedere in faccia quello che ha fregato a me e a tutti gli italiani dei denari che sarebbero stati utili per il nostro paese se si amasse un attimo il nostro paese, se si fosse orgogliosi di essere nel nostro paese. Grazie. 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 Grazie.